Buongiorno, sono Verza Francesco, sono maestro della scuola italiana Nordic Walking e responsabile tecnico del gruppo Nordic Walking Granzette. Oggi presenteremo la 100 km con gli occhi del cuore, una camminata che avevamo già riproposto nel 2019 sulla rettilineo Rovigo-Verona, seguendo gli argini dell'Adige e quest'anno, nel 2023, è passata un po' la buriana delle Covid e la riproporremo nella nostra bella provincia, il Polesine, in un giro così del Polesine a macchia di Leopardo che toccherà 14 comuni e per un totale appunto di 100 km. Le finalità di questa camminata si intrecciano tra di loro e si parte dall'inclusione perché abbiamo delle persone con disabilità della vista, quello anche sportivo, di promuovere l'attività motoria e sportiva per tutti e di abbattere un po' insomma ecco le barriere che possono frenare le persone a partecipare, ad essere attive. Collaborano con noi i Lions, i distretti provinciali, la Guisp di Rovigo, l'Unione Italiana Cecchi e Ipovedenti e l'associazione Gran Sette Polis. Un'occasione quella di oggi particolarmente gradita per incontrare Polis Gran Sette e per sottolineare il sostegno a questa iniziativa. Una camminata e tutta una serie di attività, quelle di questa associazione che parlano della sensibilità del nostro territorio. Attraverso questi volontari credo riusciamo veramente a far vedere il volto migliore del Polesine.